con tutte le nostre forze, con gli uomini e le donne che ci appartengono come volontari. Grazie a voi che avete dato questa possibilità, molta gente sicuramente già da oggi, perché questo mezzo già da oggi entrerà in servizio, avrà sicuramente la possibilità di essere impiegato e utilizzato. Grazie, lascio la parola a Don Dino per la procedura della benedizione del mezzo.